È un derby diverso perché poi tra l'altro è in Coppa Italia, è un ottavo di finale, siamo ancora lontani alla finale però è un derby che va preso, è una partita che va aggredita contro una squadra che ti fa giocare male perché non ti concede spazio, è una squadra che non ti aggredisce e quindi bisognerà essere molto bravi loro saranno una buona condizione psicologica ma lo siamo anche noi, quindi è una partita secca e le partite secche sicuramente sono molto diverse dalle partite di campionato Domani giocano Neto e Rugani, bastano, due bastano, Neto e Rugani Poi vedrò come stanno dei tre difensori che hanno giocato fino ad ora tra Bonucci, Barzagli e Chiellini se farne riposare uno o se farne riposare due e di conseguenza da lì ci sarà la formazione in campo Davanti, domani potrebbe riposare Di Bala visto che ha giocato molte partite, domani sicuramente riposare a disposizione e poi giocheranno due tra Mandzukic, Zazza e Morata stanno tutti bene, quindi chi gioca domani sicuramente fa bene Zazza sta molto bene, lo stesso Morata, lo stesso Mandzukic che è una buona condizione fisica ma tutta la squadra che stia attraversando un buon periodo e di questo sono molto contento perché poi da quando riprendiamo andiamo in discesa verso il finale di stagione visto che il campionato finisce il 16 maggio e quindi da gennaio in poi bisogna farsi trovare pronti nelle migliori condizioni fisiche Quadrato sicuramente è un giocatore che ha fatto bene la partita con la Feltina come tutta la squadra da parte quando si gioca a calcio bisogna sacrificarsi sia in fase difensiva e poi per poi giocare meglio in fase offensiva quindi se domani Quadrato sarà della partita sicuramente farà una buona partita se non sarà della partita sarà un cambio importante all'interno della partita perché come dico sempre, soprattutto domani è una partita dove ci può essere il pericolo dei supplementari